È la notizia di cui letteralmente tutto il mondo parla, che fine ha fatto il sommergibile Titan. Quello che sentiamo dai telegiornali è veramente quello che è successo? Oppure in realtà c'è sotto qualcosa? Dove sta la verità? Lo scopriremo con questo video. Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video, sono ufficialmente tornato in quel di Milano. Le mie vacanze a Madeira sono finite e con quelle anche i vlog, non vi preoccupate, andatele a recuperare ovviamente se ve li siete persi. Fatto sta che in questi ultimi giorni tutto il mondo è rimasto col fiato sospeso per quanto riguarda questa faccenda che è successa col sommergibile Titan. Ovviamente anche io letteralmente mi ci sono fissato, ho guardato tutti i video, tutte le notizie, tutti i servizi al telegiornale, perché non lo so nemmeno anch'io. Quando succedono disgrazie del genere, boh, l'essere umano diventa morboso e vuole saperne sempre di più e quindi la curiosità aumenta. Ora, mi sono domandato in quest'ultime ore se fosse consono oppure no fare un video al riguardo, anche perché lo stanno facendo veramente in tantissimi e soprattutto raccontando letteralmente tutto. Ma se non lo sapete, io ho anche una rubrica sulle teorie del complotto e ho scoperto che ci sono dei complottisti anche riguardanti questa situazione e quindi oggi non andremo a raccontarvi tutto quello che è successo nel sottamarinino perché lo sappiamo ormai tutti, ma andremo a scovare le teorie del complotto che ci sono dietro il titan e le cinque persone scomparse. Quindi, ragazzi e ragazzi, mettetevi comodi, prendete il vostro drink preferito e tenetevi idratati perché c'è un cardo che si moglie in questi giorni. Quindi, iniziamo dall'inizio. Per le uniche due persone in tutto il mondo che non sanno di cosa stiamo parlando, praticamente qualche giorno fa cinque persone super benestanti, direi anche milionarie, hanno pagato fior fior di quattrini un biglietto per avere un posto in questo sommergibile che sarebbe andato nei luoghi dove è affondato il Titanic ormai 111 anni fa e tutti insieme avrebbero fatto questa escursione per vedere dal vivo i relitti della nave, ok? Le cinque persone dentro il titan erano Shazada Dawood col figlio Suleiman Dawood, poi Paul Henry Nargolot, scusate se sbaglio qualche pronuncia ma sapete che io ciao ne, Amish Harding e poi il creatore di questo sommergibile, Stockton Rush. Tutte queste persone hanno pagato 250.000 dollari per appunto avere un posto assicurato dentro questo sommergibile che aveva appunto capienza di cinque persone per farsi questa gita, tra virgolette. La spedizione doveva durare in totale otto ore, loro hanno pagato il biglietto, sono andati insieme appunto a Stockton e uno di loro era anche diciamo il comandante, perché ovviamente serviva un esperto, sono partiti solo cosa è successo. Dopo un'ora e mezzo in cui il titan aveva iniziato la discesa verso il fondale, sparisce. E cioè non si ha più nessun tipo di segnale, non si ha più nessun tipo di collegamento con questo sommergibile e da quel momento ovviamente sono state allertate tutte le autorità sia del Canada sia degli Stati Uniti e ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo, anche perché queste persone erano disperse, anche perché il sommergibile non si trovava, non si sapeva più che fine avesse fatto. La notizia ha avuto anche tantissima risonanza, non solo per il collegamento del Titanic ovviamente, ma soprattutto perché siamo venuti a conoscenza che il sommergibile aveva in totale 96 ore di ossigenazione. Quindi dopo queste 96 ore le persone all'interno sarebbero praticamente, avrebbero praticamente perso la vita soffocando. Tutti siamo stati a controllare continuamente le varie notizie perché più passavano le ore e più la gente si preoccupava che fine avessero fatto queste persone e soprattutto sono ancora vive. Le ritroveranno? Dove le ritroveranno? Come le ritroveranno? Ma fin da subito diciamo che i soccorsi non è che erano molto ottimisti perché si dice che non esiste sulla Terra un mezzo di soccorso che potesse andare giù fino a un fondo al mare, prendere il sottomarino e portarlo a galla per salvare le persone. E da lì sono iniziate anche un po' le polemiche. Ora, io non vi sto a raccontare tutto perché su tutta questa faccenda ha fatto un video qualche giorno fa Gianmarco Zagato e è super dettagliato con il countdown anche delle ore su quello che poteva succedere, su come è stato creato questo sommergibile, quindi vi consiglio di andare a vedere il suo video. Noi ci concentriamo più sulle teorie, ma vi faccio un breve riassunto per poter arrivare poi a farvi capire la teoria del complotto che è diventata virale. Con il passare delle ore che queste persone erano disperse, si è iniziato anche a capire e a comprendere com'era fatto questo sommergibile e in tantissimi, soprattutto gli esperti di sottomarini, di materiali e di costruzione e queste robe qua, hanno dichiarato che questo sommergibile non era adatto per scendere sotto l'acqua, sotto il mare fino a 4000 metri, perché io vi ricordo che il Titanic, quello che rimane della nave Titanic, si trova a circa 3800 metri sotto il livello del mare. Addirittura io ho letto che, a parte il sommergibile che è stato fatto con vari materiali che sono paragonati a materiali da campeggio e quindi non assolutissimamente adatti alla pressione che c'è quando vai a quelle profondità, ma ho letto su Twitter, ditemi se sbaglio o se c'è una fake news, che l'oblò, l'unico oblò che c'era in questo sommergibile, praticamente poteva sopportare la pressione dell'acqua fino a 1500 metri di profondità. Quindi come poteva arrivare a una profondità doppia da quello che poteva trattenere, da quello che poteva sopportare? Le cose che non tornano sono tante anche perché questo sommergibile, a parte il fatto che una volta entrati dentro, una volta chiusi dentro il sommergibile, loro non potevano uscire, nel senso che la porta, il portellone, non si può aprire dall'interno, ma si può aprire solo dall'esterno e io oserei dire, io solo sapendo questa cosa, col Kaiser che avrei accettato anche solo di entrarci così per un mini tour, mai nella vita siete pazzi, ma sai che claustrofobia. fatto sta che, come se non bastasse, questo sommergibile sarebbe stato guidato da un joystick da 30 dollari, quello della Xbox. Qualcuno rispetto a questa notizia dice non è vero, in realtà il joystick serviva solo per posizionare le luci, i fari del sommergibile, però io vi vado a raccontare tutto quello che so. Nel senso, un sommergibile che deve fare una cosa del genere, andare fino a 4.000 metri di profondità. Ci sono comunque delle persone, quindi delle vite a rischio, che, ok, accettano, pagano addirittura 250.000 dollari per fare questa cosa. E il sommergibile è guidato da un joystick, ma siamo pazzi. E, tra le altre cose, guidato attraverso la tecnologia Bluetooth, dalla nave che stava in superficie. A parte che tutte queste robe, boh, io sfido chiunque di voi a dire, a sapere queste cose, perché loro lo sapevano, a quanto si dice, e accettare lo stesso di pagare e di fare questa escursione della morte, oserei dire. Ma come se non bastasse, loro hanno anche firmato un documento che sarebbe una specie di scarico della responsabilità. Era un documento che te dovevi firmare perché, in cui c'era scritto, guarda, ci sono alcune probabilità che potresti perdere la vita se fai questa cosa. Se firmi qua, noi non abbiamo la responsabilità perché te hai deciso per te stesso. E tutti, ovviamente, hanno firmato. Ora, è vero che per qualsiasi cosa ci sono queste cose da firmare, anche per cose molto meno pericolose. Però, se unisci questo a tutto il resto che vi ho detto, c'è qualcosa che non va. Come fai a accettare una cosa del genere? E soprattutto, portarti anche tuo figlio, sapendo che probabilmente potresti anche morire. Comunque, la notizia dell'ultima ora, ovviamente il countdown dell'ossigeno è terminato, e quando tutti i telegiornali hanno dato la notizia che probabilmente, ormai, sarebbero morti attaccati, in realtà è arrivata una nuova news che vuole che il sommergibile sia imploso subito. Nel senso, quando hanno perso il collegamento a un'ora e mezzo di distanza dall'inizio dell'escursione, lì il sommergibile sarebbe imploso. E quindi, diciamo che, tra le varie ipotesi di fin di vita, questa sarebbe la meno grave. Nel senso che è imploso, te neanche te ne sei accorto, quindi sarebbe stata una morte molto, diciamo, più veloce e molto migliore rispetto allo stare 96 ore chiuso dentro un sommergibile di quanti metri sono? 3 metri per 2. Insieme ad altre persone, sapendo che morirai, sapendo che succederai, e quindi questa sarebbe, diciamo, la morte migliore, no? Che ci si potesse augurare per questa situazione. Il fatto, però, ragazzi, ora arriviamo alla teoria del complotto. Perché tutte queste cose, a molte persone, non sono tornate. Casualmente, dopo 96 ore, viene fuori questa notizia che tutti ci ha fatto, sì, dispiacere, ma anche tirare un sospiro di sollievo, come per dire, ah, vabbè, almeno non hanno sofferto. Casualmente, avete detto che è imploso praticamente subito, però, nelle ore precedenti, le news dicevano che avevano sentito dei rumori provenire, appunto, dalle profondità dove sta nei pressi del Titanic. E quindi, questi rumori, che erano a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro, tutti dicevano che provenivano da questo sommergibile. Come è possibile che si siano sentiti dei rumori? E qui, adesso, arriva la teoria del complotto. La teoria del complotto, ragazzi, che riguarda il Titan, praticamente vorrebbe, e state attenti, vorrebbe questo sommergibile, questa gita, non una gita per vedere il Titanic, ma in realtà sarebbe stata una spedizione di sola andata per andare a ricercare un portale che ti porterebbe in un altro mondo sconosciuto. E, ragazzi, ragazzi, aspettate, lo so che sembra una cosa un po' così campata in aria, ma in realtà questa teoria ha avuto molte conferme perché il Titanic, il relitto del Titanic, si troverebbe, sarebbe affondato nei pressi del Triangolo delle Bermuda. Sapete cos'è il Triangolo delle Bermuda? È quella zona dell'Oceano Atlantico in cui, casualmente, succedono sempre dei disastri, tipo spariscono aerei, tipo spariscono navi, persone che non si trovano più. E, infatti, io mi sembra di ricordare che quella zona è proprio impraticabile, nel senso non ci puoi andare per via della pericolosità. E quindi tutto questo mistero ha fatto sì che le persone avessero iniziato a pensare che le cinque persone dell'equipaggio del Titan in realtà sapevano che non sarebbero tornate mai in superficie e quindi avrebbero organizzato tutta questa messa in scena dell'incidente e della loro morte perché in realtà andavano dentro questo portale per raggiungere questo nuovo mondo, questo posto ai più sconosciuti. Posto e portale conosciuto solo da un'elite di persone, elite di persone super ricche, quelli che comandano il mondo, quelli che appunto hanno i miliardi. E non sarebbe nemmeno male anche perché il costo del biglietto per fare questa gita, per vedere il relitto del Titanic, sarebbe un po' esagerato perché io vi ricordo, come vi ho già detto, che il biglietto a persona costava 250.000 dollari. Facendo due ricerche abbiamo scoperto che per fare una gita, per andare sullo spazio e farsi un giro sopra la terra navigando per lo spazio, il biglietto a persona costerebbe 200.000 dollari, quindi 50.000 dollari in meno del biglietto del sommergibile. Quindi si sono tutti chiesti, ma com'è possibile che andare sullo spazio con tutti i comfort, con tutte le tecnologie super sicure e la sicurezza ovviamente di non morire, costi ben 50.000 dollari in meno di fare una gita, scusate se la chiamo gita, ma l'hanno fatta passare per una gita guidata sott'acqua per vedere una nave. Questa cosa è un punto fondamentale perché insieme a tutto il resto che vi ho detto che tutti dicevano che non era adatto questo sommergibile per scendere, che tutti lo sapevano, che però com'è possibile se tutti sapevano questa cosa? Persino il creatore del Titan sapeva che non era adatto, però lui stesso è andato dentro il sommergibile per fare questa gita. Com'è possibile che costi questa cosa 50.000 dollari in più che andare sullo spazio? Capite che i complottisti ci navigano su queste cose e quindi si è fatta in questi giorni, in queste ore sempre più spazio la teoria del complotto che in realtà tutti loro, quelli che hanno aderito a questo progetto, a questa gita escursione guidata, in realtà sapevano perfettamente dove andavano a parare, cosa sarebbe successo e per cosa sarebbe successo cosa sarebbe uscito per le notizie, per ovviamente non far trapelare che in realtà laggiù, in fondo al mare, in mezzo al triangolo delle Bermuda, ci sarebbe questo portale che ti porta in un mondo nuovo, sconosciuto. Come se non bastasse, ci si mette anche il nome della società che ha creato il sommergibile. Si chiama la società Ocean Gate. Ocean Gate in italiano significherebbe porta nell'oceano, super giù. Il gate, ragazzi, il gate del treno, che sarebbe il binario, il gate dell'aeroporto, che ti serve per andare in aereo, per andare da un'altra parte. Tutti sono impazziti. E il nome della società che significa letteralmente portale nell'oceano e persone super ricche che hanno accettato di rischiare la vita semplicemente per vedere un relitto di una nave dal vivo e spendi fior fior di quattrini, sapendo che molto probabilmente non tornerai mai in superficie. Addirittura lo stesso fondatore è andato a fare questa cosa. E vi ricordo, come ho detto prima, tutti gli avevano sconsigliato di intraprendere questo progetto e so anche, l'ho ascoltato nei vari video, che alcuni collaboratori di Stockton, praticamente, quando gli andavano contro dicendo guarda che non è pronto, guarda che coi materiali non vanno bene, guarda che così, guarda che cos'ha, venivano letteralmente licenziati. Quindi, io mi domando, se fosse uno così preso da manie di grandezza, di smanie, faccio soldi così, prendendo i soldi da miliardari annoiati che vogliono avere un po' di avventure nella vita, io, sapendo poi che il sottomarino rischiava molto, non avrei mai accettato di entrare io stesso lì. Me ne stavo sulla nave in superficie con i soldi di questa gente e poi me ne lavavo le mani. Il fatto che lui, il fondatore, stesso è andato lì fa sì che questa teoria del complotto vada di bocca in bocca e si confermi sempre più veritiera. Ora, crediamo a questo portale, ma... Ragazzi, io non credo a nulla, ma credo a tutto. Tutto può essere nella vita, però, boh... Fino a quando non lo vedo con i miei occhi, io vi racconto e basta. Poi, che ci possa essere, che non ci possa essere, quello io lo lascio a voi decidere. Ditemelo qua sotto tramite commento se questa teoria può avere comunque un qualcosa di veritiero, secondo voi, oppure è solo frutto della fantasia delle persone che ormai vedono teorie del complotto ovunque. Ma, prima di finire il video, raghi, io vi devo dire che c'è stata un'ennesima conferma da parte di un cartone animato. Se non siete molto esperti di teorie, del complotto, di predizioni del futuro e tutto quanto, forse non sapete che durante le milioni di stagioni dei Simpson, del cartone i Simpson, nei vari episodi sono successe delle cose che poi, qualche anno dopo, effettivamente nella vita reale, sono accadute. Per esempio, Donald Trump, che è diventato presidente degli Stati Uniti. Nei Simpson c'è un episodio, andato in onda molti anni prima che succedesse realmente questa cosa, dove Donald Trump diventava presidente. Addirittura, vari fatti di attualità sono successe e nei Simpson sono andati in onda molti anni prima. E, ragazzi e ragazzi, in una puntata dei Simpson è successa anche una cosa del genere. Perché stagione 17, episodio 10, c'è Homer che fa una spedizione con un sommergibilino piccolino e va giù per l'oceano e poi vedono anche i resti di una nave che, in questo caso, non dicono che è il Titanic, ma è un'altra. Ma Homer, a un certo punto, rimane incastrato nelle profondità dell'oceano, senza ossigeno. Ora, è un caso? Siamo tutti un po' soggetti nel subito andare a dire oddio. I Simpson l'avevano predetto perché, appunto, avevano già predetto molte altre cose che, in realtà, poi sono successe? Non lo so. Fatto sta. Stagione 17, episodio 10. Andatelo a vedere. E non è una cosa di questi anni. La stagione 17 è di molti anni fa. Cosa c'è dietro i Simpson? Dietro il creatore dei Simpson. Ci nasconde qualcuno che, sotto sotto, ci vuole raccontare un'altra verità? Sotto sotto ci vuole dire che tutto è già stato programmato, tutto quello che succede già, i poteri forti e l'elite di super miliardari che comandano il mondo hanno già un percorso prestabilito per noi, per il mondo, per la società e per tutto quello che succederà? Non lo so. Lo scopriremo. Oppure no. Ma l'ultima parola è la vostra. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di tutto quello che vi ho raccontato e, soprattutto, se credete a queste teorie o se ne siete a conoscenza di altre teorie del complotto riguardante, purtroppo, ahimè questa tragedia. È davvero una tragedia dove cinque persone hanno perso la vita nel peggiore dei modi? Oppure sono stati tra virgolette fortunati e non si sono neanche resi conto della morte perché, appunto, il sommergibile è in più quasi subito? Oppure ancora in realtà loro erano d'accordo nel far dire ai telegiornali tutte queste cose perché sono scappati con un portale in un altro mondo? Fatemelo sapere e mettete like a questo video se vi ha un po' anche insinuato il dubbio o se, secondo voi, sono tutte delle fregnacce. Detto questo, per oggi è tutto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere se volete più video delle teorie del complotto dato che comunque noi abbiamo una rubrica tra le tante. Ora scusate che ultimamente ero indaffarato con i vlog della vacanza. Però a me ogni tanto parlare anche di queste cose fa molto piacere. Insomma, adesso basta. Vi lascio liberi davvero per oggi a godervi il weekend. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!